Ciao! Iniziamo con la prima orizzontale, i disegni nelle caverne della preistoria, graffiti, il nome di Panariello. Giorgio, Giorgio. Andiamo avanti con le orizzontali, sette orizzontale, lui e l'altro, loro. Due verticale, la bella seredova, alena. Tre verticale, l'impeto del precipitoso, foga. Foga. Andiamo avanti con le orizzontali, otto orizzontale. L'ultima lettera dell'alfabeto greco. Non la sapevo, però, visto che qua ci sono già tre lettere, mi viene proprio da pensare che sia Omega. Poi non ho mai capito se si pronuncia Omega o Omega. Non ho mai fatto greco, quindi. Dieci orizzontali. Bergamo. B, B, C. Tentiamo con la sei verticale. Ha una lingua molto studiata. Inglese. 12 orizzontale. Assieme al... A, assieme al... Devo dare la definizione. Col. Undici orizzontale. Potrebbe essere Rana. Un'abitatrice dello stagno. E così fu. 13 orizzontale. Si ripete confermando. Già. 14 orizzontale. Lo sono tutte le illusioni. Dovrei saperlo bene io. Eppur non mi sonviene. Ah, quindi tentiamo con la dieci verticale. Conduce Ciao Darwin alla tv. Oh, signore. Bonolis. Non ho mai visto una puntata di Ciao Darwin in vita mia. E credo che neanche mai la vedrò. Comunque, andiamo avanti con la 14 orizzontale. Lo sono tutte le illusioni. Vedete, Ciao Darwin mi ha fatto avere uno svarione. Perché sono tornata a leggere quella che avevo letto due secondi fa e che non so. 16 orizzontale. Li spendono i messicani. Pesos. Vedete, questa volta sono molto più letargica nel parlare. Perché più e più e più volte mi è stato fatto notare che ho un modo un po', come dire, frettoloso. poco, 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 come si dice, non mi viene la parola. Perché poi quando parlo in maniera così lenta, il mio cervello ragiona in maniera lenta e vado tutta al rallentatore. Potrei anche essere colta da un attacco di narcolissia. Comunque, andiamo avanti con la 12 verticale. C'è chi ha la seconda al mare. Casa. Beh, ci sono anche quelli che hanno la terza, la quarta e la quinta. Ah 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 ah. Ridiamo tutti per questa bellissima battuta. E andiamoci ad infognare. Vedete, nuovamente con la 14. Cosa sono tutte queste illusioni? Sane, vane. Ah, probabilmente vane. Beh, sane non tanto. Quindi direi vane. Infatti, 14 verticale. Le 9 di sera. Eh, scusa. Le 20. No, c'è qualcosa che non quadra. Le 9 di sera. Il 14 verticale. Sono le 20. Ma poi queste altre due caselle... No, no. Scusate. Le 20 sono... Sono le 8. Benissimo. E ve l'ho detto che vado a rallentatore. Sono le 21. Le 9. La 17 orizzontale. Privo d'originalità. Ma banale. Non c'è così tanta banalità in questo mondo. Ah, avevo saltato questo scricciolo con due sole caselle. Il 15 orizzontale. Un articolo. Viva Dio che ce l'hai perché così diventa il. Altrimenti avrebbe potuto essere la, lo o le. Ok. Andiamo avanti con il 18 orizzontale. Il Damon di Hollywood. Ah, ma... 19 orizzontale. Sfrazzoso. Dilusso. Potrebbe essere suntuoso. S-O-N-T-O. Ma poi è suntuoso, suntuoso. Ha un momento di rimpicillimento. Ecco la O. La prima è una O. Cioè la prima, la seconda lettera è una O o una U. Non me lo ricordo. Oh, signor mio. Proviamo a vedere se con la 18 verticale magari mi viene un colpo di illuminazione. Ah, ma non fare vita di società. Non la so. Non la so perché io non faccio vita di società. Io sono una sceta. Io sono una persona ai confini del mondo reale. Quindi andiamo al 17 verticale. Il capo per sbrogliare la matassa. Mi stanno prendendo per i fondelli. Se sapessi qual è avrei già sbrogliato la mia di matassa. Ma andiamo avanti con il... Aspettate che mi sono persa. Il 16 verticale. Pezzuole che scivolano sul pavimento. Pattine. Ho l'odio per queste pezzuole. A casa mia non entrerà mai una pattina. Il 19 corizzontale. Vabbè. Reiteriamo il concetto. Vabbè. Quindi... Ah, ma quindi me la piglio in saccoccia perché il 18 verticale... Non lo so. Ho... Scusate. Ho un capello che mi si è infilato dentro l'orecchio. Ecco, stavo andando fuori di testa. E sono ritornata anche con quest'altra mano nell'inquadratura. Il 17 cos'era? Il capo. Per sbagliare la matassa. Al bandolo. Mamma mia. Ma si può essere più tardi di così. Cioè tardi, effettivamente tardi perché sono le 3.50 di notte. Ma come sapete io vivo così. A 22 olzontale. I profilatti di ferro per il cemento aramato. Profilatti di ferro per il cemento aramato. Tondini. Boh. Non lo so. Vediamo se con il 22 verticale ho un po' di fortuna. Dove sei? Si raggiunge alla fine del volo. Schianto. No, cosa si raggiungerà all'aeroporto? Vedi? Eccoci. Entra se la ho la mettiamo fuori. No. Non so cosa si raggiunge alla fine del volo. Non lo so proprio. Andiamo avanti con la 23 orizzontale. La più bella vendetta. Oh no. Finisce con oh no. No. Il perdono. Giammai. Perdonai qualcosa. Non ho qualcuno in vita mia. No. Veramente. Io purtroppo non ho il dono del perdono. Che poi in realtà la parola dono è contenuta in perdono. Ecco. Io mancandomi. Vedete? Mancandomi. Quindi mi rimane solo il per. E quindi io non so che cosa sia il perdono. No. A parte gli scherzi. Infatti non stavo scherzando. Veramente. Io non riesco a perdonare. Purtroppo questo difetto. E così è. 29 orizzontale. Giorno lavorativo. Sfigato. Feriale. Feriale. Ma qua ancora non siamo riusciti a capire. perché. Ehm. Ah. Però qua abbiamo un tu. Buco. S buco. E poi altri due buchi all'inizio. Che cos'era? Il 19 orizzontale. Ehm. Ma è sempre quel. Sontuoso. Vabbè. Ehm. No. Io dovevo cercare questa. Invece. Ecco. Ehm. Tut. 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 Ma voi pensate che io lo sappia? Ma ovviamente no. Andiamo avanti con il 32 orizzontale. Allora. Trattino. Che sta ad indicare che devo mettere io la parola che manca. Reale. È un'anitra selvatica. Ah. Il germano reale. Ma che belli. Va sotto casa mia. Ce ne sono a pizzeffe. E tra l'altro di notte si scannano gli uni con gli altri litigando in maniera molto accesa. Però sono carini. Mi rallegrano le nottate. 35 orizzontale. I nomadi con i dromedari. Ma come si chiamano quelli del deserto? I... Tuareg. Può essere T-U-A-R-E-G-G. No. Non sono i Tuareg. Come si chiamano quelli? Ma sai? No. Ma sai sono altri? Ma non sono i Tuareg quelli là. No? Va bene. 35 verticale. Un manager vertici. Non è il CEO. Non è il... Il quadro. Non è... Non lo so. 32 verticale. Ceremò i primaverili. C'è... È stata un po' lunga. Questa è M perché dovevo scriverne due. 29 orizzontale. Copre il guanciale. F-E-De-R-R-A. 23 verticale. Cos'è? Scusa. Lo Stato con Lima. P-E-R-U. Che bello. Mi piacerebbe un sacco andare in Peru. Peru, Ecuador, Bolivia. Cile. Tutti i posti dove vorremmo andare. veramente molto molto 35 orizzontale cos'è? i nomadi e tu? e tu? e tu? peduini mi sta venendo una fame che non avete idea beh è ovvio perché alle 4 del mattino sto ancora qua a far sta roba cioè ormai il fisico ha digerito tutto quello che ha digerito a cena 25 orizzontale l'albero di cui si benedicono i rami ulivo oh mamma un altro dubbio è olivo o ulivo mater dei ma mi sta proprio sfiancando con queste boccali tentiamo con il 25 verticale la regione in cui visse San Francesco e beh la conosco molto bene si fa da regione Umbria quindi è Ulivi benissimo 26 orizzontale la Croft archeologa di avventurosi videogames ah ero un archeologo la Croft non ci posso credere ma poi la Croft era il personaggio di un videogioco no scusate perché io non sono molto affezza ai videogiochi quindi era un videogioco vero? mi date conferma? bene non ho sentito una risposta quindi che taccia consente però era un bel pezzo di gnocca quello si 27 verticale fa esplodere chi aspettate che un attimo mi ero un po' inceppata fa esplodere chi non si domina? fa esplodere chi non si domina? cosa? all'ira mamma mia 31 orizzontale a volte è agitato il mare in tempesta qua niente siamo a questo punto un morto rian qualche cos'è il 19 verticale ah il gatto persiano ma perché il gatto persiano scusa? ah il pelo striato il persiano no ma che poi non è scusa no no rian no ah il soriano infatti c'era qualcosa vedete il soriano mannaggia a me e qua ancora non abbiamo trovato se la O o la U vediamo qui cos'è adesso che abbiamo aggiunto la S il 19 no dove essere proprio cretina nell'interno perché dovrei vedere la 18 verticale perché qua niente è sempre suntuoso suntuoso scusate stavo cominciando a parlare nuovamente in maniera un po' rapida amano fare vita di società ai mondani e quindi è suntuoso però secondo me suntuoso con la U suonava meglio che dite? sì sì secondo me sì come il colluttorio perché c'è una L sola è normale che tutti lo chiamino colluttorio è molto più semplice il colluttorio no sembra quasi che tutti si è dimenticato una consonante per strada 22 orizzontale i profilatti i profilatti scusate ero un attimo un po' ma stavo pensando ad un'altra parola i profilatti di ferro per il cemento armato e allora sarà per forza tondini o i venti verticale che cos'è? cuore d'eroina ah sì è proprio o i questo di tongo andiamo avanti con il 24 orizzontale vengono letti per poter ascoltarli eh vengono scusa ho letto giusto vengono letti per poter ascoltarli dimenticato orizzontale due lettere no non comprendo è 30 orizzontale non adesso poi ma anche mai eh 33 trentini entrarono tutti e 33 a Trento trotterellando non lo so questa qua non ho mai imparato bene le parole però come faceva quella la a pelle figlio da pollo fece una palla di pelle di pollo tutti i pesci venero a cala per vedere la palla di pelle figlio da pollo una cosa del genere vabbè e diamoci un contegno la 33 orizzontale mi è già caduto l'occhio e già non la so la 36 orizzontale il dolce che gli sposi tagliano insieme amaro perché poi tanto nuziale no non ci sta amaro sì perché tanto dopo qualche mese divorziano quindi vabbè amaro ci sarebbe realmente 36 verticale dove siamo mi sono persa nuovamente il giro di francia il tour no vedete purtroppo non è amaro però secondo me era la parola adatta 33 l'avevo letto formano i massicci i monti il monte non è già di per sé un massiccio no il massiccio è formato da più monti credo cos'era il 33 orizzontale si scrisse pattenbrooke non so neanche chi siano questi pattenbrooke 30 verticale lo scusi francese pardon eccolo qua e con questa bellissima voce al rallentatore il suo dente questa sera vi avrò fatto cadere le palpebre più che mai 36 orizzontale assi sempre alla torta e vabbè dolce che tagliano gli sposi una torta tutti mangiano una torta mica solo gli sposi 21 verticale non lo trovo ah sì consueto o di poco pregio non riesco a ferme non riesco a venire alla mente è 40 orizzontale a voltoio dell'america meridionale oddio cos'è quel poverino con quel cranio mezzo pelato il condor il condor non è quello bruttino che c'è la testa tipo pelata non vorrei sbagliarmi con un altro animale però mi sembra proprio lui certo che quella volta la natura però sia canita su certi esseri viventi c'è tipo il pavone non lo so per esempio ha una coda spettacolare poi ci sono appunto i condor che insomma lasciano un po' il tempo che trovano va bene tipo poi per esempio c'è una talpa glabra che non mi ricordo se è proprio il nome effettivo della specie ma questa talpa è orripilante poveretta c'è proprio senza peli c'ha il muso tipo a stella è qualcosa che non si può vedere 43 orizzontale chi ne soffre dimentica chi ne soffre dimentica scusa ho demenza o alzheimer qua non c'è nulla di tutto questo com'è possibile oh no devo andare su 41 verticale una metà dell'anno potrebbe essere an o potrebbe essere anche no non lo so 41 orizzontale una nazione nostra confinante ah no ma vedi eh no eh no mrr qua c'è federa gemme no scusa c'è qualcosa che non va germogli primaverili adesso le gemme 29 verticali copre conciale la federa eh ma una nazione nostra confinante mrr no la nostra confinante c'è Francia allora iniziamo da ovest abbiamo Francia Svizzera Austria Slovenia ma abbiamo solo queste quattro Francia Svizzera Austria Slovenia sono queste quattro eh sì per forza ma scusa una nazione nostra confinante aust ria austria ma allora non è gemme oh signore che cos'è allora cioè i getti a Mottu guarda come mi fregano Austria stavo stavo per avere un impetto tira 35 verticale aspetta ah sempre il manager ah il boss il boss già perché noi in italiano abbiamo questo vizio di trannotare in inglese tutte le parole che in italiano già esistono perché chiamarlo capo fa cagare e quindi è più bello chiamarlo boss come ad esempio i fuso che già di loro avevano un nome straniero negli ultimi anni siamo riusciti a farli diventare leggings e la cosa ancora più sorprendente è che se tu entri nei negozi dove ci sono questi poveri cristidi commessi giovani molto alla moda se tu gli dici fuso questi si sparano in testa perché non hanno la più bella idea di cosa tu stia chiedendo altro esempio lampante è il fard che negli ultimi anni è diventato blush e io mi chiedo per quale diamine ti ragione ho anche ad esempio recensione fare una recensione ormai è diventata fare una review non avete idea di quanto mi faccia girare forte la testa dover pensare al sostituto inglese della parola italiana che va bene i francesi da questo punto di vista hanno veramente ragione a tenersi tutte le loro belle parole e tra l'altro a tradurre in francese le parole straniere bravi 45 orizzontale no è un 43 aspettate che mi sono letteralmente persa chi ne soffre dimentica amnesia amnesia non manca poi molto sono quasi giunta al termine di questo percorso rendiamoci conto che con questa lentezza ho fatto quasi 27 minuti di video al pari di uno che avrei fatto per uno schema del partezaghi che è tipo il doppio di questo sia di grandezza ma il doppio anche di difficoltà infatti ovviamente non li finisco mai ah qui manca una povera misera lettera qua in mezzo 39 orizzontale cos'è neanche per idea oh no ebbene 22 verticale termina termina cos'è si raggiunge ah la fine del volo il terminal 44 orizzontale un luogo in cui si cerca la via d'uscita labirinto 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 una volta mi sono fatta dove ero a Merano credo all'orto botanico Tratumansdorf si di Castel Tratumansdorf perché c'è l'orto botanico tra l'altro che tu sia uno dei più immensi che abbia visto nella mia vita c'è qualcosa di veramente devastante per quanto è grande ci sono andata la bellezza di quattro volte non credo anzi no non credo sono sicura di non averlo ancora mai visto tutto e se non erro è proprio lì che ho fatto il labirinto di piante ricordo di essere entrata in un labirinto di piante di siepi insomma però non ricordo dove ma credo che fosse lì se andate da quelle parti comunque andate a vedere veramente l'orto botanico perché è veramente uno spettacolo tenuto poi non bene di più è qualcosa di meraviglioso 42 orizzontale abbondante come certi pasti come si dice non mi viene andiamo avanti con il 42 verticale l'indimenticato Battisti Lucio 40 verticale il club degli alpinisti Kai l'auto un l'autopasto mi fa venire ancora più fame questa parola non ho nulla da divorarmi qua in questo momento 33 verticale formano i massicci allora sono proprio i monti 33 orizzontale scrisse Pattenbroke ma non lo so 24 verticale più si allunga e più si paga più si allunga e più si paga non mi viene è incredibile non avrei mai sospettato che potesse non venirmi un termine 24 orizzontale vengono letti ah sì per poter ascoltarli io veramente non capisco proprio cosa vogliono dire e 21 verticale cos'è? ah consueto di poco pregio o i a o o no non mi viene neanche questo consueto di poco pregio ordinario infatti ordina rio no ma scusa 24 vengono letti oh signore i cd esistono ancora i cd 24 verticale cos'era? ah sì il conto più si allunga e più si paga ah man comunque è così man ha scritto in Pattenberg con molta gioia che audio vi annuncio di essere finalmente riuscita a finire questo schema di parole crociate con questo vi saluto vi auguro una serena notte per voi amici della notte mi sembra un po' marzullo e niente ci vediamo la prossima volta ciao 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 ciao